che sono poste al servizio della gente. Francesco Tagliente, il nuovo prefetto di Pisa, esperienza in passato anche come questore di una città importante come quella di Firenze. Intanto arriva a Pisa, chiede se è fatto della città per quanto riguarda la sicurezza, la percezione della stessa. Io diciamo che ho conosciuto un po' la Toscana e sono contentissimo di essere tornato in Toscana. Pisa è una realtà complessa che richiede una grande attenzione e insieme con i rappresentanti delle altre istituzioni, lavorando insieme, mi auguro di poter dare quella risposta che il territorio richiede. Sono fortemente determinato a mettere a disposizione della città tutta la mia esperienza e tutte le mie energie alla fine di migliorare le condizioni generali della città e dei cittadini di Pisa. Anche una piccola esperienza come nel campo della comunicazione e del giornalismo. Ha detto che stringerà i rapporti con gli organi di informazione. Io sono fortemente convinto che la stampa è uno degli anelli, anzi lo ritengo un anello fondamentale della catena per la sicurezza, soprattutto per la percezione della sicurezza. Chi comunica con la stampa deve saper dare tutto quello che facciamo, fare di più, fare meglio, ma soprattutto far sapere, perché la gente deve conoscere le istituzioni, deve poterle valutare, giudicare. Io sono fortemente convinto della necessità di fornire alla stampa tutte le informazioni per poter consentire alla gente di capire quali sono le istituzioni al loro servizio. Dice buongiorno, voglio lavorare per il bene di questo.